Sto per presentarvi due nuovi concorrenti, potrebbero rappresentare una forza in più, ma non credo che vengano in pace. Alvin, vogliamo farli entrare? Signore e signori che entrino in palapa per la loro prima volta, Licia Nunez e Marco Senise! Ciao, 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 benvenuti Marco, benvenuta Licia, benvenuti, benvenuti, grazie, come si vedi come Naufraghi? Molto panatta, come si vedi? È vero, è vero, sì, però, ciao allora, buonasera a tutti, ciao Licia, buonasera, dicevi panatta? Sì, un po' sì, te lo dico, cioè, nel senso, sei un volto noto. Ma guarda, i miei amici mi chiamano Adriano, ti giuro, i miei amici mi chiamano Adriano, è vero, è vero, è vero, è vero. Anche un po' pardo? Un po' pardo, qualità, grande pardo, il grande ritorno, il pardo, qualità, grande pardo. Allora, come vi sembrano che idee vi siete fatti? Profumano, profumano tantissimo. Grazie a tutti.